Progetto del nuovo ospedale Felettino, la ditta Pessina che all'appalto dei lavori ha chiesto una modifica delle fondamenta del nuovo ospedale, è a rischio il progetto? Ma dunque la gara è stata segnata nel 2015 durante la campagna elettorale e quindi è chiaro che un sistema di appalto originale unico in Italia, se si voleva la certezza di avere il nuovo ospedale bisognava appaltare il progetto con i soldi a fianco. Non è stata fatta questa scelta politica, la sinistra ha sbagliato e ci trasciniamo una serie di ipotesi di varianti. L'ultima proposta è questa che è l'esame della commissione preposta, quindi ai fini antisismici della provincia, ai fini idrogeologici del comune, se andrà bene entro un mese sapremo perché sono 1700 tavole da esaminare, se andrà bene ci sarà quindi questa variante nelle fondazioni, se non andrà bene c'è il progetto originario che deve essere realizzato. Purtroppo abbiamo ereditato questa situazione, non la gestiamo noi ma la gestisce IRE che è la società a cui ASL 5 ha deputato la gestione dell'appalto, speriamo perché tutti i cittadini di Spezia hanno il diritto, io per primo, a volere il nuovo ospedale, speriamo che vada tutto per il meglio. Il comune però può esercitare una funzione politica molto importante, cioè farsi rappresentanza di una città intera. L'appalto è di ASL affidato a IRE, mi sarebbe aspettato dalla classe dirigente che ha fallito su questo tema, cioè quello della sinistra, innanzitutto chiedere scusa e lavorare insieme per risolvere i problemi. Invece si attacca sempre chi non ha competenza come il sindaco, presidente della regione, e non si attacca chi ha un contratto in mano, firmato e che deve essere onorato. L'appello che faccio io è quello di lavorare insieme per il bene della nostra città, per il bene dei nostri cittadini e come faccio spesso, dico abbassiamo i toni, rispettiamoci e lavoriamo insieme per il bene veramente. Se uno ha a cuore la propria città e non il proprio ego, lavoriamo tutti insieme e facciamo le pressioni giuste a chi deve oggi realizzare il nuovo ospedale.